Mi hanno letteralmente pagato per camminare. Ciao sono Daniele per gli amici subri e come avrete visto da alcuni miei video a inizio mese sono stato a Parigi ed oltre ad utilizzare i mezzi pubblici ho anche camminato veramente un sacco perché oltre a far bene perché si bruciano calorie in questo caso fa anche guadagnare come ve lo spiego. Ma aspetta aspetta un po siete già iscritti al canale vero? No! E cosa state aspettando? Prima di continuare con il contenuto se non siete già iscritti iscrivetevi al canale e soprattutto cliccate sulla campanella per essere avvisati ogni volta che faccio uscire un nuovo contenuto che tra l'altro esce 7 giorni su 7 per ora sto tenendo questo ritmo e nei miei contenuti di cosa parlo? Beh parlo di come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online. Camminare è una cosa che possiamo fare per mantenerci in forma anche a passo svelto come fa mio padre o magari anche una corsetta veloce ma c'è anche chi per lavoro cammina un sacco penso ai camerieri oppure perché no anche chi cammina perché porta fuori tutti i giorni il cane una due tre quattro volte al giorno o magari chi va semplicemente a far la spesa e quindi perché non guadagnare facendo due passi? Per una persona come me che è tanto seduta ad una scrivania perché registra video e scrive e monta quindi non è che cammina tanto una buona occasione per camminare è anche la palestra oltre a camminare tanto perché mi sposto da un macchinario all'altro banalmente il giorno delle gambe muovo tanto le gambe e questo con questa applicazione particolare può aiutare ma non solo quando faccio ciclette tapirulan oppure ellittica anche lì faccio tanti passi anche se fisicamente sono fermo insomma si può camminare in tanti modi ma non vi preoccupate perché se come me non camminate molto e magari non andate neanche in palestra c'è comunque la possibilità di guadagnare stando seduti sul divano e come sempre subri vi svela tutti i trucchetti per poterlo fare la prima cosa da fare per iniziare a guadagnare è scaricare un'applicazione e sto parlando di cash walk e già il nome è tutto un programma per poterlo fare vi lascio il link in descrizione e nel primo commento insieme ad un codice che dovrà essere inserito all'inizio della vostra registrazione per avere subito un bonus d'ingresso senza far assolutamente niente una volta aver cliccato sul link e scaricato l'applicazione basterà accettare l'invito per poi fare una registrazione tranquillamente con google oppure facebook attenzione però se utilizzate una vpn per poter installare l'applicazione dovrete disattivarla perché vanno in conflitto e anche per poterla usare anche se poi c'è un trucchetto anche per questo che vi spiego più avanti dopo aver scelto con che cosa fare l'accesso vi verrà chiesto il vostro paese quindi italia e poi una cosa molto importante da fare dopo aver accettato termini e condizioni sarà quella di inserire il vostro peso e la vostra altezza questo sarà molto utile da fare per calcolare il più precisamente possibile i vostri passi quindi mi raccomando inserite informazioni veritiere proprio qui dopo questo passaggio vi verrà chiesto di inserire il codice per avere un bonus d'ingresso senza aver fatto assolutamente nulla quindi mi raccomando non perdete questa occasione il codice ve l'ho lasciato in descrizione nel primo commento ma ve lo dico anche qua sarebbe 5 q u m 4 dopo di che vi verrà chiesto di fare 10 passi e vi consiglio di fare questo passaggio per vedere che tutto sia ok come spiega anche l'applicazione 100 passi equivalgono a un coin e si possono guadagnare 100 coin al giorno facendo 10 mila passi al giorno dopodiché andranno impostati diversi permessi e vi consiglio di seguire il tutorial dell'applicazione perché varia da smartphone a smartphone quindi non posso farvi un tutorial generale che vada bene per tutti infine un altro passo da fare molto importante secondo me per avere sempre tutto sotto controllo e andare in alto a sinistra dove ci sono le tre linette ed impostare la schermata di blocco con questa applicazione questo vi garantirà di avere sempre le coin a portata di mano perché calcolerà in automatico i passi e i coin e soprattutto vi darà la possibilità di cliccare sulla box per riscattare le monete ogni 100 passi a questo punto non dovrete far altro che camminare 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 anche dopo aver preso la metro camminare oltre a camminare potreste anche correre cosa che io onestamente non farò altrimenti gronderei di sudore nel giro di zero ok quindi avete capito che il funzionamento è molto base e raccogliere punti è facilissimo ma visto che come vi ho detto all'inizio c'è la possibilità di guadagnare anche senza fare 10.000 passi al giorno vi spiego come poterlo fare perché l'ho testata a lungo e vi svelo qualche trucchetto il primo trucco è quello di aprire semplicemente delle casse gratuite che si potranno sbloccare dopo 100 1000 e 2000 passi queste box variano i coin che rilasciano di volta in volta e basterà cliccare sulla cassa una volta che avrà fatto il suo caricamento vedere una pubblicità e ottenere i coin il secondo trucco quello per proprio i pigri in assoluto è quello di muovere il braccio cosa ma ti pagano per muovere il braccio quindi beh fondamentalmente si e faccio l'esperimento direttamente con voi come potete vedere sono a 1719 passi e mentre parlo adesso farò semplicemente così questo può funzionare perché l'applicazione non va come gps ma semplicemente vedrà i movimenti quindi mentre camminate con le gambe farete così e in automatico i passi verranno segnati vediamo adesso quanti ce ne sono 1000 e infatti guardate qua che sta continuando a contare e ne ha contati un po semplicemente muovendo il braccio già mi immagino tanti di voi con due braccia enormi così solo per muovere il braccio tutto il giorno e fare 10.000 passi il terzo trucco banalmente è quello di installare questa applicazione su più dispositivi possibili che avete in casa ovviamente sto parlando di smartphone passate sempre tramite il mio link inserite il codice così su tutti i dispositivi già avrete il bonus di benvenuto ma poi soprattutto portatevi dietro questi dispositivi e tutti insieme contemporaneamente in automatico calcoleranno gli stessi passi quindi farete il doppio il triplo il quadruplo dei passi tutti i giorni semplicemente portandovi dietro più dispositivi tutto ciò perché semplicemente non c'è bisogno di internet per calcolare i passi ma dovrete poi accedere magari al vostro wifi di casa del lavoro quello che volete per poter ritirare le coin e soprattutto aprire tutte le casse bonus le potenzialità sono infinite e potrete fare tutto comodamente con nuovi account il quarto trucco ve l'ho spoilerato all'inizio ovvero quello di portarvi il cellulare dietro quando ad esempio andate in palestra o banalmente anche in casa se state facendo attività fisica tutto ciò perché vi conterà in automatico i passi anche se starete fermi quindi se funziona muovendo il braccio se salgo sulla cyclette sull'ellittica sul tapirulan mi metto il cellulare in tasca lui inizia a contare i passi anche se sono fermo tutto ciò che cosa vi garantirà di fare banalmente 3000 4000 5000 passi semplicemente facendo attività fisica quindi semplicissimo il quinto trucco questa volta stando seduti sul divano giuro non c'è da fare neanche sforzo fisico è quello di andare nella sezione specifica dedicata alle missioni e ai giochi per cliccare poi sul primo banner e fare tutti quelli che sono sondaggi oppure giochi semplicemente da scaricare sullo smartphone e giocare io l'ho testata e vi racconto la mia esperienza io personalmente ho provato a fare un po di tutto compilato dei sondaggi ho provato anche dei giochi e l'applicazione una volta che riceverà la conferma dal sito dall'applicazione che avete scaricato che siete riusciti a portare a termine quel compito specifico in automatico farà arrivare le monete su cashwalk tutto velocissimo immediato e automatico seguendo molto molto bene le regole che ci sono scritte lo so che in tanti potrebbero pensare ma e dove c'è il trucco non è possibile che ti paghino così tanto solo per giocare o fare dei sondaggi vi porto questo pratico esempio concluso pochi giorni fa in 24 ore ho guadagnato più di 1200 punti semplicemente scaricando il gioco facendo le missioni che erano descritte e arrivato alla soglia mi hanno subito inviato le coin ora che però abbiamo visto come guadagnare camminando e anche tutti i trucchetti del caso vediamo come si possono spendere effettivamente queste coin per ricevere dei soldi nella sezione dedicata alle ricompense ci saranno veramente un sacco di gift card tra le quali scegliere innanzitutto le più famose le più apprezzate quelle amazon ma anche poi e se lunga decathlon e tante tante altre veramente ce ne sono un'infinità la quantità di monete che potrebbero servire per raggiungere un determinato buono però potrebbe cambiare nel tempo all'inizio quando ho preso l'applicazione bastavano 1000 coin per un buono da 5 euro di amazon adesso servono 1500 coin per un buono da 5 euro su amazon però diciamo che siamo sempre lì vi faccio però una piccola precisazione perché avrete visto le card da 25 euro di amazon che scorrevano tra le varie gift card che vi ho fatto vedere prima ma ad oggi 24 07 2023 quando sto registrando questo video non sono più disponibili quindi se le rimetteranno non lo so vedremo col tempo ma alla peggio ne prendete più da 5 euro ora però vediamo come si riscattano effettivamente le gift card amazon che so essere le più apprezzate e quelle che ho preso anche io andando nella sezione delle ricompense non appena arriverete alla soglia per poter riscattare il buono dovrete innanzitutto verificare il vostro numero di cellulare e proprio lì arriverà un codice da inserire dopodiché bisognerà andare nella sezione delle ricompense inserire il codice di sicurezza che c'è nella sezione delle ricompense sul sito apposito e verrà in automatico sbloccato il buono amazon con il classico codice di amazon che dovrà essere inserito sul proprio account attenzione però come sempre io vi porto come si utilizza un'applicazione nei lati positivi e negativi quindi adesso parliamo dei lati negativi la prima cosa negativa la più pesante secondo me in assoluto è la batteria dello smartphone che viene scaricata velocissimamente da questa applicazione veramente durerà poco la batteria dello smartphone in confronto a prima io l'ho notato sul mio e anche su altri dispositivi in cui l'ho installata per fare dei test l'ho letto anche in più forum ed è così la batteria del cellulare viene scaricata prima nonostante lui non sia collegato a internet e lei non lavori con internet proprio perché lavorerà sempre in background per contare i passi si può anche collegare a uno smartwatch che penso anche lui poi scarichi la batteria in fretta però probabilmente solo su alcuni perché io ad esempio ho il feedbit e sul mio non funziona perché c'è bisogno di installare l'applicazione quindi ad esempio come un apple watch ha ovviamente l'ho dato per scontato ma se non installate l'applicazione sullo smartwatch l'altra cosa negativa sempre collegata a questa è avere sempre il cellulare con sé e per con sé intendo quindi in tasca nel marsupio in una borsetta comunque addosso a sé perché deve contare fisicamente i passi l'altra cosa negativa che però permette all'applicazione di esistere sono le pubblicità ce ne sono un'infinità quando riscattate le coin quando prendete le box e sui giochi ce ne sono veramente un sacco soprattutto tante pubblicità ingannevoli se così le vogliamo chiamare che non dipendono dall'applicazione ma dagli inserzionisti quindi la maggior parte delle pubblicità sono spazzatura non prendetele in considerazione però ce ne sono veramente un sacco la terza cosa negativa riguarda le box giornaliere che potete aprire le tre famose box che vengono sbloccate dopo 100 1000 e 2000 passi queste box alle volte rimangono con caricamento infinito e non si sbloccano ho letto da tantissime parti questi problemi e l'unica cosa è pulire la cache oppure riavviare il dispositivo insomma fare determinate operazioni per poter sbloccare questa situazione che se no carica all'infinito io vi consiglio banalmente di chiudere forzatamente l'applicazione poi riaprirla oppure riavviare il dispositivo o pulire la cache dalle impostazioni quarta cosa negativa se utilizzate una vpn un qualsiasi programma che installi in automatico una vpn sul vostro dispositivo non potrete usare quest'app o meglio potrete usarla ma con attenzione infatti non potrete compilare sondaggi oppure giocare ai giochi per avere punti extra con la vpn attiva ma neanche aprire le box oppure riscattare le coin sulla schermata di blocco queste operazioni dovranno essere fatte senza vpn quindi potreste utilizzare la vpn disattivarla fare queste operazioni e poi riattivarla la quinta cosa negativa soprattutto per chi fa tanti passi o per chi come me a parigi ne ha fatti veramente un sacco è che l'applicazione si ferma a pagarti sui 10.000 passi non di più quindi se ne farete 20.000 30.000 40.000 passi al giorno comunque in qualsiasi caso sempre solo per 10.000 passi verrete pagati la sesta cosa negativa è che a mezzanotte si azzera tutto e non c'è nulla di automatico se avete guadagnato per 10.000 passi le 100 coin e non le avete riscattate a mezzanotte in automatico le perderete se non avete aperto le casse in automatico a mezzanotte si resetteranno quindi non essendo automatico ricordatevi ogni sera prendete tutte le coin tutte le box qualsiasi cosa e poi il giorno dopo ripartite da zero in ultimo come sempre leggo mi aggiorno e mi informo anche su cose che non capitano a me su parecchi gruppi ho visto che la gente si lamenta dei passi non conteggiati ma vi spiego la mia teoria devo ammettere che è difficile fare un paragone tra smartwatch e telefono perché o il telefono ce l'avete sempre in tasca dal momento in cui vi alzate dal letto fino a quando non vi ricoricate oppure è difficile fare un paragone proprio perché il cellulare deve essere con sé ma io diciamo che ho sfatato un po questo mito a parigi dove ho fatto dei test e mi sono accorto che nel mio caso i passi venivano conteggiati addirittura in più su questa applicazione rispetto allo smartwatch però come sempre è una cosa successa a me personalmente tutto ciò purtroppo viene conteggiato in modo forse diverso in malo modo alcuni utenti perché ho notato che l'applicazione non inizia subito a conteggiare quando faccio un passo magari devo fare 4 5 passi lei parte magari recupera anche i precedenti ma i finti movimenti non li vede quindi potrebbe essere un po negativo e deleterio per alcune persone che hanno sempre il cellulare sotto mano e vedono ma perché non si sta muovendo quindi diciamo che questa cosa dei passi è molto soggettiva ma veniamo alla parte clou ovvero come ho fatto a guadagnare 80 euro il grosso l'ho fatto a parigi dove ho camminato veramente tantissimo ma ho aggiunto anche tantissimi giochi applicazioni quindi e sondaggi ovviamente avrete capito che tutto questo guadagno non potrà essere portato solo dai passi che comunque se non avete tempo di fare sondaggi e giochi garantiscono un buono amazon ogni 15 giorni se la matematica non è un'opinione e se riuscite a fare le 100 coin al giorno proprio qui infatti voglio mettere un grosso e grande avviso e disclaimer non pensate di scaricare questa applicazione mettervi tutto il giorno sul divano a fare nulla giocando e facendo sondaggi perché ad alcune persone è stato impedito di ritirare i premi proprio perché non venivano contati i passi ma erano solo premi derivanti da sondaggi e giochi questa applicazione si chiama cash walk e un minimo bisognerà camminare ora non vi dico che tutti i giorni dovrete fare 10.000 passi al giorno altrimenti non vi verranno conteggiate le monete dei giochi e dei sondaggi però la maggior parte dei giorni dovrete camminare anche parecchio per poter poi unire tutte le monete derivanti da giochi e sondaggi soprattutto perché alcuni giochi se portati alla fine garantiscono veramente un sacco di monete e io è proprio lì che ho giocato ovvero tanti passi a parigi giochi che garantiscono tante monete fatti insieme 80 euro spero di avervi fatto scoprire un nuovo modo per guadagnare semplicemente camminando giocando facendo sondaggi e quant'altro ma come sempre se avete dubbi domande perplessità vostre opinioni su quest'app se la state già utilizzando dopo un po che l'avete utilizzata sezione commenti sempre aperta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti